Si può sapere perchè ti sei alzato e tenessi il piano? Perchè voglio bene tranquillo, ok Due ore poi arrivo a mare, altre 40 minuti per cercare parcheggio Sotto alzato la 40 gradi, ma arriva la birra fresca fresca e tu che fai? Io volevo solo fare la storia su Instagram Aspettate un altro po' che cambiamo